I tifosi del Canicatti Calcio possono tirare intanto, almeno per ora, un sospiro di sollievo, nonostante i malumori che si sono registrati nei giorni scorsi, riguardo i tanti disagi che si riscontrano all'interno della sfera calcistica della città. Malgrado tutto, un primo progetto ha fatto gol. Il Consiglio Comunale di Canicatti, infatti, ha stanziato la somma di 120.000 euro per la ricostruzione del muro di cinta dello stadio Carlotta Bordonaro. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che i lavori dovrebbero partire già dalla prossima settimana. Si verrebbe così a porre fine ad una situazione che si protrae tra malumori e lamentele da parte dei tifosi, ormai da qualche mese. L'amministrazione comunale di Canicatti, inoltre, ha già incaricato un professionista di redigere il progetto, affinché si dia inizio alle opere di sistemazione del muro adiacente alla gradinata, solitamente riservata al settore dei tifosi ospiti.